Il vino che si faceva è un vino di piaccia ed è così comandato uno strato di ghiaccio fuori poi per chi può dare piaccia e tagli a tocchetti e metti là dentro tagli sempre dopo che lei fa questa situazione prende un poco di vino e lo mette in modo tale che lui incominci a prendersi di sapone un altro strato di ghiaccio e un altro po' di pesca dice che è pesca a me a casa come si diceva la palentana e in italiano sono pesche fatte con vino e ghiaccio rimettiamo un altro po' di vino e facciamo amalgamare le pesche con il vino e lo chiamolo che è bene fuori ha manco di un suono e prendi di nuovo un altro strato di ghiaccio un altro strato di pesca le mani le avevo lavate la settimana scorsa eh non sono mani sporne vedi? quando tu fai questa composizione vedi i vari colori dal ghiaccio bianco al vino rosso alla pesca gialla dai 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 dai